Maia.net è una piattaforma che ha una vita virtuale online e una vita reale nelle strade. Questa è la prima edizione che abbiamo organizzato qui a Roma e la nostra idea è proprio quella di muovere lo spazio e muoversi nello spazio e andare a cercare e a vedere dentro le cose. Tanto è vero che abbiamo disposto 15 cubi in altrettanti posti nella città di Roma proprio per spezzare quella che è la quotidianità dei percorsi che ognuno di noi fa o che anche un turista può fare. Quello che ho realizzato è una installazione sonora fatta con tre chitarre elettriche suonate da tre ventilatori. Quindi abbiamo un paesaggio sonoro costante che sembra sempre uguale ma in realtà è sempre mutevole. Quasi da un lato un requiem, da un altro una nuova nascita. Tanto dello processo dell'arte che si comincia con qualcosa e con il processo diventa un'altra cosa. Questo è interessante per me anche per il titolo della mostra che si chiama Tutte le strade. Ti piace Roma? Sì, mi piace un sacco. Sì, mi piace un'interessante per portare il centro dell'Athensio nel centro dell'Rome. Quindi un dialogo delle due città. Ho spero che ci saranno pronti in un paio di ore. Quindi una volta che ci saranno qui ci saranno un'ora o due per fare tutto. Sì, questo è il luogo che sarà così grande e poi si saranno dal città all'interno.